buonasera ragazzi come sempre inizio a parlare subito e subito vi chiedo ditemi sempre un riscontro tecnico se mi vedete e mi sentite bene questa classica serata dedicata all'ennesimo periodo di offerte me lo mette a fuoco grazie sì o no no non me lo mette a fuoco adesso sì offerte di amazon che sono creato anche questo ennesimo periodo con un nuovo nome che si chiama la festa delle offerte prime offerte prime che andremo ovviamente a commentare cercare le cose più sfiziose ma anche un'occasione ragazzi a farci due belle chiacchiere ma riparlando anche del master rock photographer questo concorso oppure parlare dello sponsor di questa serata che lo sponsor di serata sì sono io infatti la prima offerta che vi segnalo è quella sul mio libro sai perché le tue foto fanno schifo così vi spiego visto che mancano soltanto tre minuti come funziona il tutto ovvero noi andremo a seguire in una doppia schermata ovviamente quello che è la situazione su amazon avete mancano due minuti e 33 dopodiché sul mio canale tele ram trovate il link ovviamente qui sotto andrò a scriverle man mano che vengono annunciate per intenderci nascondi questa parte qui un torna al minimo perché vi spiego sempre se effettivamente un falso minimo ragazzi non lo vado a segnalare se invece torna un prezzo già basso faccio torno al minimo 12,00 euro ho deciso di riportare al vecchio prezzo il mio libro sai perché le tue foto fanno schifo quindi metto qui il tutto vado anche a metterci il link questo è il mio libro e questa è la foto del mio libro quindi questa è la cosa che faremo stasera insieme cioè verificare le offerte segnarle mettere sul canale tele ram giustamente sia il canale tele ram sia questo video resterà online anche domani vado subito a salutare carlo cinelli che mi dice che tutto ok che quindi è ottimo e saluto anche a giuseppe murabito quindi audio video ci siamo teniamo sempre pronta la schermata sulla festa delle offerte dovrebbe essere qui che parte tra neanche una manciata di secondi quindi sorzetto d'acqua e ci facciamo una bella chiacchierata ragazzi sono notevole che siamo in 86 a mezzanotte di questo ottobre strano se mi seguite anche su instagram ha fatto una storia dicendo strano è che a tolentino alle 19 20 c'erano 28 gradi con un vento caldo davvero un periodo che greta tomba direbbe ve l'avevo detto io no allora mentre aspettiamo che scocchi la mezzanotte saluto anche a excel 79 a luca bastianello filippo giardrossi matteo b matteo pierdicca mentre ragazzi alterneremo poi fasi in cui vado a leggere i commenti e seguire quelle che sono appunto le offerte quindi se avete domande insomma siamo qui per passare un'oretta in compagnia vi dico subito che la live a luna la chiuda che ho mia moglie che dorme qui dietro quindi non voglio creare troppe disturbi anche se tutte le porte sono chiuse sul mio erogio mi dice che la mezzanotte scoccata andiamo ad aggiornare e dice che la festa delle offerte prime è partita e qui comparso un pdbd non so se è una bestemmia un codice fiscale o sono le offerte io subito inizio e un po sennheiser cosa mi dice se c'è qualcosa di interessante questo è interessante la 560 s però non riesco a capire se è un prezzo abbassato se il prezzo standard ne ha un po io sempre utilizzo lo sapete kipa che è questo programmino che permette di tenere sott'occhio l'andamento delle offerte e vediamo che non è così così interessante per adesso ma torniamo un po all'inizio ok vado sulla festa delle offerte prime si questo qui il filtro di ricerca quindi sennheiser torniamo un attimo indietro sembra che per adesso è interessante le momentum 4 a 2 74 si offerte prime ok c'è la solita offerta si le solite le 5 99 che lo dico sempre scherzando comprarle fuori dai periodi di offerta è proprio da tonti perché in realtà solo in questi momenti si tirano fuori il prezzo quello buono ma torna a dover già 27 marzo torna lì però effettivamente lo dico sempre se volete iniziare assaggiare una firma sonora particolare caratteristica autorevole se vogliamo come quelle sennheiser questo è il prezzo però questo qui lo segnalo come torna al minimo quindi non è un minimo ancora più basso però grossomodo io le segnalo sempre perché comprarle fuori c'è normalmente 199 follia 109 follia 89 follia vanno comprati in questi periodi ormai amazon li stia tirando fuori uno dietro l'altro cioè prima c'era soltanto il break friday poi hanno messo il prime day le feste di primavera festa delle offerte vi dicendo stanno gonfiandole come sequenza quindi 79 e 99 euro da comprare solo in questi periodi se si vuole iniziare a conoscere la firma sonora del brand l'ho scritto purtroppo ma sono ancora fresco siamo agli inizi le 5 e 99 appucca è un modo per dire insomma parte che dovreste sentire molto bene il fatto che utilizzo una testiera meccanica quindi ci sarà un ticchettio molto caratteristico in questa oretta che passiamo insieme torno un attimo sui commenti me lo faccio ruotare saluto a niki mano del zucchini ciao chissà se non sia il momento giusto per cambiare la mia fuji è fuji però raramente nelle offerte prime ci rientra poi andiamo a vedere claudio morellato ciao Gianluca ho letto il tuo libro interessante mi fa molto piacere claudio che ti sia piaciuto ti dico anche che sto riscrivendo alcuni capitoli perché l'avevo scritto nel libro la fotografia è un linguaggio in continua evoluzione scusate quindi questo sarà un libro che cambia per chi l'ha già comprato poi ci farò un video in cui racconto tutto andrò a regalare i nuovi capitoli a chi ha comprato la versione vecchia e mi penso che sia una cosa giusta saluto a makadoko che è a lisbona le uso per montare da anni sono ottime per quello che costano sono le entry level ovviamente io ho le mie hd 800 che è tutta altra storia il topping a 170 è una buona offerta guarda il sarto ti prende come spunto quindi se è nicer torniamo a vedere se c'era dell'altro poi passiamo al topping allora di interessante ci sono le momentum che è la versione quella che hanno fatto appositamente per amazon sono un po' più belline nere con la parte dorata è un'edizione per amazon quindi in teoria dovrebbe essere un vero minimo perché 315 le hanno lanciate e abbassate un po' un giochino però effettivamente non è male io ho la versione bianca e considerando che il minimo della versione bianca è 2,89 questo è 2,74 quindi no vero minimo vero minimo eppure edizione speciale per amazon euro prima offerta interessante eppure edizione speciale per amazon eppure finitura speciale cioè effettivamente è soltanto cambio di estetica eppure estetica che caspita ho scritto estetica quindi non è che sono diverse c'è qualcosa in più rispetto a quella classica soltanto l'estetica però bellina a meno vederla qui vorrei vederla dal vivo però mentre io ho collaborato spesso con l'exibo che è il distributore italiano di Sennheiser ma non hanno queste cuffie qui perché queste sono le cuffie per amazon quindi vanno direttamente da della Sennheiser direttamente ai magazzini di amazon senza passare per il distributore italiano che è Exibo ciao grazie che siete guardando ciao allora anche qui ci mettiamo il link e anche qui ci mettiamo l'immagine comunque a vederle qui da foto sono belline altro da dire in casa Sennheiser sì allora quelle sono il lusso del bluetooth le momentum se uno vuole spendere poco sul bluetooth ci stanno queste che tornano al minimo esatto lo stesso prezzo di agosto anzi è un quasi minimo perché ci sono 99 centesimi in più però questo è il segnale perché se uno vuole delle cuffie bluetooth spendendo poco però comunque decenti con cancellazione attiva del rumore che è 79 euro 99 non è una cosa così banale essendo di marca quindi Sennheiser bluetooth cancellazione attiva del rumore bluetooth 5.0 ragazzi davvero in questo budget non c'è di meglio in questo budget non c'è di meglio a soli 99 centesimi centesimi sopra al minimo off eh il nome il link e la fotina vi ricordo perché se fosse collegata solo adesso che il video resterà online vi dovete vederlo domani anche in differita e il canale taleram è qui sotto dove tutte queste offerte sono disponibili e lo faccio tutto l'anno non sono quelli che spammano ci sono giorni che non riesco a pubblicare nulla soltanto quando vedo qualcosa di particolare interessante magari anche un po' nerd qualche volta metto anche le lego per intenderci quindi è un canale davvero con poca roba ma sempre verificata e messa bene allora ci diceva l'amico il sarto di andare a vedere sempre festa e offerte amazon prime topping che presto uscirà un video su un prodottino topping davvero notevole il DAC simmetrico ma mi sembra un po' too much perché siamo prodotti che costano parecchio l'anno 90D questo è interessante in caso proviamoci a fare una cosa un pochettino più abbordabili parecchie offerte prime comunque davvero c'è anche l'Ikima secondo me l'offerta più interessante è questo cioè l'anno 90D c'è il mio video sul canale però è un prodotto impegnativo per certo di 100 euro in meno però questo non è DAC questo secondo me è interessante però vediamo se è un vero minimo non è un vero minimo ragazzi è stato a prezzi più bassi 300 no no aspettate 390 381,65 sì non è sceso così tanto è sceso di 8 euro rispetto a un minimo precedente però è un vero minimo e qui abbiamo un DAC con anche l'MQA di Tidal sempre se poi lo mantiene e 1800 watt di potenza e uscita XLR ragazzi che mi aveva suggerito il sarto il topping di X3 Pro mi sai parlare proprio di quello no il di X3 Pro qual era il di X3 Pro sì quello pure buono però probabilmente la cosa più interessante forse ancora più questo di X3 Lite cosa c'era di Lite la potenza ah non sopporta l'MQA però c'è la stessa potenza sì io vi segnalo questo ragazzi mi sembra una delle cose più interessanti torna al minimo dell'11 luglio però dai effettivamente torna al minimo l'MQA siccome lo sta per abbandonare Tidal non è più una caratteristica secondo me da andare a cercare cioè è fine a se stesso se volete un ottimo DAC con un ampli cuffie anche a masse separate con 1800 mW adesso possiamo parlare di fotografia stiamo buttandoci un po' troppo in questi primi 10 minuti solo sull'audio questo e l'immagine comunque topping fa signori e prodotti ragazzi restate iscritti mi raccomando al canale che da qui a Natale ne vedrete non delle belle ma di più oltre ovviamente al master rock photographer se avete domande ragazzi siamo qui a chiacchierare giustamente se ci sono domande torniamo sulle domande niki che cuffie avrei anche bluetooth consigli in 300 euro a posto praticamente queste che ho appena segnalato le HD450S poi Nicola Bruno qualche cuffia elettrostatica a proposito di topping arriveranno contenuti sulle cuffie elettrostatiche ma molto difficile però possiamo buttare là una ricerca su un altro marchio che ogni tanto escono cose interessanti hi-fi man non elettrostatiche oh beh questa non è male magneto planare magari 113 anche la sundara questa è un'offertona ragazzi 113.05 vediamo che dice e si stava 137 questa è tanta roba si dovremmo parlare di fotografia ultima cosa in ambito audio e poi passiamo alla fotografia ultima di questa tornata prezzone ragazzi difficile portarsi a casa una magneto planare a meno po' po' altro da dire io ho la versione quella di drop molto più lussuosa e la mettiamo lì allora, io voglio andare a vedere un marchio che poi fra due dicioni una fava, cioè Sony tanto è un po' fotografia e un po' audio e vediamo se esce fuori qualcosa di interessante l'XM5 l'XM4 oh mamma mia mi fa tenerezza vedere che comunque vanno ancora a proporre la A7 Mark II che comunque è una macchina che fa il suo dovere cioè un mio carissimo amico Sandro Cicchini che lui la utilizza ancora e ci fa delle foto da urlo 8,99 però era sceso sotto 8,99 no, non è un vero minimo effettivamente un anno fa stava 8,57 però certo che la segnalo o la segnalo? no, c'è stato troppe volte già agosto stava questa cifra no, non è niente di che la R3 però a 2069 la R ricordate ragazzi è quella per la risoluzione 42 megapixel la terza versione però poco fa 24 agosto stava a 19,39 quindi anche questo insomma niente di che non c'è l'offerta Prime la ZV10 la V-Log camera quella PSC ma ad ottiche intercambiabili 6,39 no comunque stava a meno adesso su Sony non mi sta colpendo almeno sul punto di vista foto no proprio proprio no ne ho un po' invece Canon facciamoci una carrellata di marchi fotografici la M50 che tenerezza 6,49 ma era un prezzo secondo me non uscesi più sotto erano uscesi più sotto di 7 6,49 6,30 siamo un po' moscetti in ambito fotografico signori mamma Nikon mamma Nikon mamma Nikon mamma Nikon no 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 non vedo niente Fujifilm non vedo nulla c'è la Mini Evo avete presente che adesso la Leica ha fatto la nuova Sofort la Sofort è questa però se la comprate nella versione Fujifilm sono 195 euro se la comprate in versione Leica indovinate 350 349 quindi quasi il doppio ma è lei rimarchiata grande Leica mi spiace io amo molto il brand Leica ma quando fa le sue macchine bene quando fa il rebrand l'ha sempre fatto anche con Panasonic con cui collabora c'erano macchine che erano delle Panasonic Lumix rimarchiate di sana pianta e questa l'hanno fatto anche loro però no 195 è sempre un prezzo no no invece questo è un vero minimo però dai per 5 euro no 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 torniamo da voi vedete se viene qualcosa Edifier Stax Spirit Cuffie Wireless Planner andiamo a vedere Edifier Edifier cosa propone cosa diceva Edifier Stax è il nome classico per le magnete a parlare eh sì esatto mai provate però Edifier almeno con Edifier Edifier per i diffusori non è male certo che quanti di voi avrebbero il coraggio di spendere 2,99 per questa cuffia però bagnate a parlare wireless è interessante però la stessa cifra ti ci prendi le Sony oppure le Sennheiser però un vero minimo dai segnaliamolo anche perché effettivamente è una cosa particolare vero minimo 2,99 per 99 sono uniche in quanto beh no esistono anche altri brand tipo la fatta e anche laudese in quanto magnetoplanari wireless quel fischiettino era per far scorrere la rotellina del mio mouse ma anche Logitech sarebbe da andare a vedere l'estetica c'è da vederle del vivo così sembrano un po' plasticose finto carbonio o forse è vero carbonio purtroppo sono prodotti che non ho provato io dal vivo tornando su edifier sono sempre interessanti i diffusori e qui ci stanno delle offerte prime certo che sarebbe meglio quelle con il bluetooth quindi non la 1280 ts però senza bluetooth ragazzi no vediamo un po' la tbs che c'è il bluetooth si 118 99 ed è un vero minimo queste molto interessanti se cercate un paio di casse queste sono fatti bene e solitamente hanno anche parecchi ingressi quindi uno c'ha il bluetooth c'è il costiale che ci può attaccare un vecchio lettore cd l'ottico che ci può attaccare praticamente la televisione eppure il line in che ci può attaccare un giro rischi quindi strastraconsigliate queste ed è un vero minimo e volendo con quelle due casse ci fate un impianto semplicemente lui potrebbe essere un impianto con cui iniziare ma se la voglia viene ascoltando passa cose molto più cicciose però partite bene sono due vie hanno tutti i controlli di tono di fianco bella finitura legno insomma a me vi consiglio sempre degli ottimi prodotti con cui iniziare ottimo punto di partenza per un mini impianto hi-fi e non fatemi ah non è vero hi-fi quella si inizia qui completo di bluetooth e tanti altri ingressi che gli ingressi sono fondamentali cioè quando prendete una cassa bluetooth e ha soltanto il bluetooth e qualche volta l'ausiliario finito il link quindi non è grande possibilità queste casse che già mettono su bluetooth quassiale ottico e due linee sono 5 ingressi non è affatto male e andiamo a mettere il link poi torno da voi ragazzi che sto vedendo i commenti che si stanno ammucicchiando allora Filippo ah giusto finalmente qualcosa di fotografia si spesso adobe adobi fa le offerte sia per il creative cloud o per altre cose andiamo un po' a vedere quindi torniamo faster effect amazon prime adobi yes sir esatto io questo l'ho fatta poco l'ultima volta ci sono state le offerte che erano luglio mi pare sì io una volta all'anno quindi rinnovo con queste a 88 19 che comunque non dovrebbe essere infatti vedete qui da me questo è il mio schermo acquistato due volte con 88 euro all'anno allora io ce l'ho morti con adobe l'ho sempre detto perché io ho utilizzato un cs6 di photoshop per penso 10 anni e ancora sul portatile lo utilizzo perché prima tu ti potevi comprare la licenza quindi a me non importava avere l'ultima verissima versione di photoshop tipo l'intelligenza artificiale non me ne può importare di meno però lo compravi una volta lo utilizzavi tutta la vita adesso no devi pagare sempre l'abbonamento però insomma 90 euro all'anno è una cifra secondo me accettabile non sono d'accordo perché se appunto io utilizzerò photoshop per tutta la vita in 10 anni io gli lascio 900 euro di licenza avete mai pensato ah ma tanto costa poco fate un discorso voi siete fotografi o videomaker o creativi per tutta la vita perché magari è o la vostra passione o la vostra professione o entrambe quanti soldi dati a questi stronzi sì ho detto stronzi in live su youtube ma non penso che mi buttano fuori comunque non è proprio il minimo no invece è il vero minimo anzi è sceso di 1 euro e 80 centesimi rispetto all'ultima volta quindi scriviamo effettivamente vero minimo 88 19 per me restano degli strezzini quelli di adobe ma in questi periodi almeno vi abbonate a un prezzo decente e comunque il minimo un po' creative cloud photoreflane per un anno ovviamente dopo un anno c'è aspettare il nuovo periodo prime amazon in questo almeno creando queste partnership con queste aziende qualcosa fa di buono non voglio essere critico nei confronti di amazon che in fondo con l'affiliazione sapete ragazzi che io non chiedo patreon non chiedo abbonamenti il mio canale è per voi con cosa mando avanti la baracca con un euro che mi arriva da questo libro no anzi quando l'ho comprata a 15 adesso l'ho comprata a 12 mi arrivano meno qualche centesimo però lì sono contento cioè più di voi lo leggono più sono contento ecco l'amazon quindi questi sono le mie fonti di guadagno devo mettere il cellulare a caricare che sta morendo ok il cellulare in carica torno su di voi e mi sono perso airam c'è Luca acquistato stamattina il KFLS 50 prima serie su ebay e775 ti siamo un prezzo oddio potevi spendere di meno dipende se è se è il secondo cioè chi te l'ha venduto era il primo proprietario oppure no perché io lo prese effettivamente a 7,50 e tanti anni fa quindi quindi c'è un prodotto un po' vecchietto sono favolose sì specialmente nell'ascolto ravvicinato ma io quando l'ho portata anche nello studio 2 dove c'era tanto spazio comunque effettivamente godibili godibilissime al massimo se vuoi un basso un pochettino piuttosto ci puoi abbinare un smoofer Filippo se siete oggi ho letto ma che voi parte la pubblicità nella live sì ragazzi questo è youtube se avete l'abbonamento dovreste essere senza pubblicità altrimenti sì cioè è normale Axel sì Niconisti ciao Riccardo mi raccomando Riccardo aspetto anche la tua foto nel master rock fotografe ragazzi qui le sto facendo vedere questa è una deprima è il vero trofeo con una viera Pietrozza sentite il suono esatto che ho costruito e che i vincitori si portano a casa sì insieme alla Panasonic S5-2 le stampe di Sal e via dicendo e Bubi ha detto che lui stava cercando di fare le foto perché sul gruppo Telegram le trovate qui sotto c'è il link che vi porta invece nella chat live in cui vete parlare con me e anche tra di voi e lui ha detto voleva partecipare e vediamo un po' timino la sua segnalazione su Manfrotto quindi torniamo sulla Feste Prime oh adesso l'hanno aggiornato qui prima quel adesso c'è la Feste Prime e cerchiamo Manfrotto cosa tiro fuori mi diceva Riccardo il 190 cioè il 290 il B3 vediamo questo qui innanzitutto 97 euro l'MK290 con una testa video quindi fluida stava a 96 di minimo 1 euro 99 sopra che non sarebbe male però proviamo un attimo dicevi il 190 bifra 290 questo è il 190 no questo è il 055 lo storico che c'ho anche io proprio ma molto meno si trovavano questo è il 190 senza testa ma è un minimo no non è un minimo non lo so tra tutti questi segnalerei solo il primo ma un quasi minimo è un buon cavalletto c'è una testa fluida di quelle fatte bene però non è tutto questo granché però dai 2 euro sopra 97,98 2 euro sopra quindi lo segniamo con questo quasi minimo il primo che mi scrive sto un po' indietro commenti se ci recupero il treppiede non serve a niente quando c'è la sterilizzazione no ragazzi ho fatto riprese ultimamente poi proprio per gli sponsor del Master Rock Photographer e ho visto che con un buon stativo con una testa fluida ho fatto un po' di riprese a mano libera e delle riprese fatte sullo stativo e alla fine ho utilizzato quelle sullo stativo niente da fare forse è anche colpa mia che non sono bravo a fare i movimenti io però per me è tutt'altra storia quindi sempre indispensabile un buon stativo questo con una testa video e non vuol dire dove ci fanno le foto ma anzi in più permette di fare i movimenti fluidi per chi stesse scrivendo a Gianluca che vuol dire movimenti fluidi vuol dire tipo un movimento in cui tu stai fermo sul treppiede e giri in questo modo quella che è la tua fotocamera quello è il senso e farlo bene senza andare su e giù è quello che c'è difficoltà se io faccio un movimento in rotazione non riesco a restare perfettamente in asse quindi l'inquadratura che sballonzola su e giù verticalmente è brutto il movimento devi saperlo fare è un movimento su più assi se utilizzi questo lo fai su un solo asse e viene meglio cosa manca il link e la foto e poi torno su di voi ragazzi tac tac sembra un pozzetto allora torniamo su di voi qui qui volevo chiudere la foto allora Antonio Cessere Antonio Cessere scusami ho letto male buonasera Gianluca vedo le Fidelio X3 scontatissime ma già le 60 che dice vale la pena allora adesso Antonio andiamo a verificare però considera che il vale la pena dipende io la mia collezione sapete qui a fianco a me di otto cuffie io sono un cuffiofilo e questo è molto divertente il giochino di mettere e togliere cuffie che si fa bene mentre con i diffusori o hai un salone o un negozio di audio tipo i fai di Prinzio oppure non so audio costruzioni i fai di Agostini audio da Dali ti dicendo oppure queste prove rapidi di passare a un diffusore ad un altro noi poveri umani non possiamo farle con le cuffie si quindi è divertente avere cuffie differenti magari uno la Bina più la classica una più a rock e una più a jazz quello che vi pare vediamo le Fidelio che ultimamente spesso nel mio carattere vi ricordo qui sotto in descrizione le ho segnalate Fidelio e 119 sono le nuove le X3 sicuramente le X2 stavano in offerta che le nuove hanno poi un design molto particolare è un vero minimo è un vero minimo allora io in passato ve lo faccio vedere ho segnalato le X2 che sono quelle vecchie e se non sbaglio non scese anche sotto i 100 euro adesso appena Kipa si fa vedere vedete 94 99 però effettivamente queste sono una nuova versione purtroppo non le provate so che molte persone molte del mio canale telegram qui sotto molti di voi quindi mi avete scritto dicendo che molti preferiscono addirittura le Fidelio Sennheiser quello dicevo il giochino di giustrare quelle cuffie quindi questo qui è un vero minimo sa se Felix mi ascolta non sa se me mi ascolta bello che io ho collaborato in passato con Felix per i monitor gli ho detto ma collaboriamo con quelle cuffie scomparsi so che è colpa mia nei miei video dico sempre onestamente la mia opinione questa cosa a tanti non piace ogni riferimento a Nital è puramente casuale poi è bello che io spesso parlo bene però solo quando parlo male divento fastidioso quando parlo bene ne dici oh hanno parlato bene di prodotti mannaggia ad essere onesti ragazzi piccolo sfoghino personale allora io sarei curiosissimo curiosissimo di provare questa terza versione visto il successo della seconda la X3 della Fidelia molto particolare come estetica sembra che abbiano la parte in tessuto che ricopre tutto il paviglione ma con due tre punti agganciato a questo anello sarebbe a vedere anche poi la vestività cioè come si indossano queste cuffie se calzano bene oppure no ok DJ Rikki mi spiace ma cerco di parlare sempre dei miei ambiti quindi foto e audio televisori si lo so che ho portato alcuni contenuti tipo quelle delle Sense ma l'avevo puntato soprattutto sul discorso della soundbar quindi sul discorso dell'ascolto Gianluca Guarzoni di Sony Alpha c'è qualcosa sì però niente di così eccezionale l'ho già visto niente di che hanno tirato fuori la A7-2 ma niente di che saluto Fabio Berti saluto a Matteo B segnalo la Fan Music True Air per Cineco Zero Red Minimo Storico andiamo a vedere che non ce l'ho presente Fan Music Fan Music vediamo allora festa dell'offerte Fan Music viene fuori la Eirilic che è un ottimo streamer l'ho provato ho già fatto anche il video e questo Fan Music non è uscito fuori forse sono quest'altra che c'era scritta poi Fan Music True True Air come velocità e recchia True Air oddio ci stanno le KZ sempre per questo Cineco Cineco che dovrebbe essere se non sbaglio un youtuber bello famoso però quelle che dici tu non li trovo parte ci stanno parecchie cose è un po' KZ che tira fuori restando in Eir che ho provato parecchie parecchie volte oddio ci stanno pure cose divertenti la ZSTX quindi la nuova versione che ha due driver una armatura bilanciata una dinamico a 1599 con la solida estetica folle e semitrasparente fighissimo 1599 ed è un minimo ok questo segnalo che alla fine è un oggetto da prendere divertente non avete mai provato gli In-Ear Monitor capite come stanno iniziate a giocare con i gommini capite se il filo che passa da l'orecchio vi basti o no e sentite la firma sonora la KZ che è molto particolare questi affaretti 1599 non vi faccio quelle cacchiate da ammazza giganti questi 16 euro sono meglio delle mie Sennheiser che stanno sopra i 1000 euro no assolutamente no però rispetto a quello che costano fanno paura davvero paura gli auricolari KZ quello che costano per le dimensioni soprattutto sono un esperimento da fare secondo me anche Mari voi comprate dei In-Ear Monitor spendendoci 100 euro e poi scoprite che vi indolenziscono il paviglione cosa che succede spesso io ho quelli con cui suono come batterista sono fatti quel calco su misura per questa ragione un discorso è 100 euro un discorso è 16 euro poi se siete un po' pazzi secondo me prendete questa lezione viola si possono scegliere altri colori ma questa viola è davvero figherrima sai cosa si dice qualche volta degli auricolari possono anche essere una fonte di conversazione cioè fate un viaggio con gli amici in treno con questi qui vi vedono ma che è sta roba e gli potete raccontare due cose ma ridite mi era racconsigliato Gianluca Pocci ok torniamo ai commenti sto sempre indietro di 13 minuti Tristan buonasera volevo comparare le Sony ZV1 pensate di aspettare le offerte sono state una perché 2560 non è andato e lo so Sony questa volta poca roba Fabio Berti 88 che aveva rinnovato il cloud sul sito Adobe 123 Fabio ma sei iscritto al mio canale Terram c'è la link qui sotto perché io l'ho già segnalato a luglio Fabio Berti tranquillo Gianluca c'è la D6 sempre qui e la D3 se rimango con solo quella tu hai detto Fabio il giorno che le butti via e ti lascio il mio indirizzo me le spedisci ci penso io lo smaltimento si vede un piccolo la mia sovracciglia ok penso che si Daniele D'Amico chiedono abbonamenti pure per pisciare lo so poi se lamentano della pirateria ovvio se vai a rubare a casa dei ladri eh questa cosa qui ma stanno facendo un po' tutti anche Autodesk che ce lo vedo per lavoro in ufficio anche Microsoft con Office purtroppo si sono buttati su questo modo ovviamente a diciamo in ampio spettro ci guadagnano però l'utente finale insomma a lungo termine ci perde ma di brutto non ho fatto in tempo ma in settimana faccio tutto spero mi raccomando non riducetevi all'ultimo momento perché il scade sabato alle 18 e ho visto con quelli che hanno già partecipato chi c'aveva il documento mancante chi c'aveva l'allegato che non era a posto quindi anche per me che dovrò poi prendere tutte le foto e mandarle agli giudici quindi a Mario Palladino a Richidelli Paoli a Marco Alberto Lassi a Fabio Porta se me le mandate man mano non mi crede casino oltre al fatto che per adesso ci sono decine di partecipanti quindi c'è spazio non vorrei che il limite dei 50 scoppia alla fine Paroli ragazzi io vado con la data e ora con cui mi arrivano le mail quindi ragazzi sbrigatevi altrimenti questo trofeo chi se lo porta a casa ma che figata ho costruito si è costruito mi ha aiutato mio padre a forare la pietra che non è facile è forata la pietra e poi riempita con un collante è venuta una figata vi dico questo quando sarà finito tutto il 25 novembre un po' mi dispiacerà perché mi sono affezionato a questo affare qui perché io l'ho pensato io ho inciso il legno io ho scartavetrato e dato l'olio al legno la pietra l'ho cercata io mio padre me l'ha forata poi io ce l'ho incollata sopra insomma c'è tanto lavoro lì dietro come ha detto tutto il master rock photographer andiamo avanti con voi genius budget non l'ho capito gianluca guerzoni cosa ne pensi delle teste rotanti motorizzate che meglio ti prendi un dj ironing che fai la stessa cosa però non fai solo quella sì esistono le teste motorizzate esistono magari quei sistemi che di base uno slider poi testa motorizzata ti permette di fare più movimenti nel video e in parte anche in alcune situazioni fotografiche avere teste motorizzate sono utili perché magari tu devi fare più riprese fotografiche lasciando la fotocamera sempre nella stessa posizione e cambiando i soggetti ti aiutano molto nel video è un game changer cioè ti permette di fare video con impatto totalmente differente Filippo buonanotte buoni affari ti ricordo Filippo che il video resterà online il creator resterà online e questi due giorni andrò a popolare e rispondo anche a Tongue Lover un amante della lingua che appunto il cane di Reram sta sempre lì seguitelo perché durante tutto l'anno andrò a aggiungere cosa Mike Moore Worryless sta cercando un tv però mi spiace non sto seguendo queste cose qui Tongue Lover scherzo ovviamente ma guarda conestamente abbiamo visto tipo in ambito fotografico cerco altri marchi tipo Lumix non ho cercato un po' scherzino cioè Sony niente Nikon abbiamo visto niente Canon niente Fujifilm niente quindi un po' così Tongue Lover poi ci conferma che Fidelio va bene come prodotto preferire Google TV mi spiace non sto guardando queste cose Michele Pian Piano ho preso il tempo fa i speaker di FIAR R1000T4 ho preso il Banggood circa 50 euro prezzone sono davvero bene si confermo ah non ti ho volcato eccolo Michele Pian Piano cioè Pian Piano scusate ragazzi un po' di stanchezza si sente alle Pozzi dice i prodotti dell'Ajima adesso andiamo a vedere un attimo velocissimamente vediamo un po' i cinesi se ci deliziano Ajima quindi pre-valvolare finale è stato solido con anche il V-meter che insomma fa lo stesso effetto di mesopracciglia vi fa l'occhiolino peccato questo però sono analogico però c'è il bluetooth però un vero minimo la abbinate con giradischi comunque ci avete la possibilità c'è anche il ground questo è carino ragazzi ha l'ingresso per giradischi quindi vedete anche il giradischi è un po' vecchio lo schiaffate qui e lo fate suonare magari con le lumpù adesso andiamo allora vi segnalo questo vero minimo ah andiamo a cercare anche i giradischi troppa roba vediamo cosa riusciamo a fare nella prossima rete che voglio anche chiacchierare con voi che è quello per piacere una icca il fatto che ha l'ingresso pre pre sono per giradischi con testina ok la foto però quella davanti che è più figherrima quella davanti di foglio di foto e sbamma un attimo cerco l'ombù è si per offerta prime 84 euro però no costavano molto meno costavano molto meno queste 48,50 questa questa proprio no non è offerta torno su di voi paolo paolo ricco si 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 l'ha vista la sua forte ma è una copia spudorata della fujifilm cioè non è copia scusate è fujifilm che ha venduto praticamente tutta la meccanica a laica e laica ha fatto solo il guscio fuori con i suoi materiali sui brand finiti ma del brand one more consigli qualcosa andiamo a vedere allora prima concedimi Michele di vedere giradischi vediamo cacata 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 vedo poca roba interessante poca poca roba poi non offerte speciali questo pioneer ragazzi ricordatevelo perché sabato ne parliamo seriamente sì l'ho provato è tanta roba questo tick per esempio 176 89 un'occhiata su kipa no infatti non è poi aspetta mi dicevi ma qualche one more allora torniamo offerte prime uno more no no bareplay bangloufsen che ho segnalato qualcosa questo pomeriggio ci sono le hx che questo è davvero il lusso portato ai massimi estremi io ho le portal che sono la versione più da porelli 3 e 69 no torniamo su di voi vedo un'offerta con l'obiettivo rff ah torniamo a parlare un po' di fotografia allora data color esso lo spider va in offerta eccolo 119 era questo il minimo o era sceso ancora di più 116 è lì vicino ma no dicevamo poi lumix l's5 vecchia con l'ottica e una batteria in più e una batteria in più a meno di 1450 sì questo è un vero minimo oh anzi questo qui è un minimo bomba perché è sceso tanto rispetto ai prezzi cioè pensate se l'avete comprato ieri l'avete pagato 2122 questa oh finalmente che soddisfazione in questa live si tratta della prima versione ricordiamo sempre una signora full frame con un buon zoom io sempre dico lo zoom della lumix che è in palio al master rock photographer che è in palio un s5 seconda versione col 20-60mm e quello 20-60mm gli altri partono tighe kit da 24 o peggio da 28 no lui parte da 20 e un 20mm poi ragazzi è quello che mi stiamo guardando adesso cioè allora per dire adesso è a 35 questo è un 20 e vedete anche la finestra il termosifone e tutto cioè ti apre un mondo incredibile avere un 20mm in kit con un buon zoom 20-60mm eppure un'ulteriore batteria aggiuntiva questa effettivamente è per me l'offerta migliore fino adesso di questo prime è stato già sulla vecchia serie di offerte ed era sceso praticamente a 1499 l'hanno sceso di altri 50€ quindi tanta roba più l'umix di 60mm più batteria l'umix blk21 finchettino torno su di voi non leggo le risposte consiglio un da camp con l'indirizzo bilanciato l'ho già segnalato era poco fa insomma poco fa eccolo questo il topping il x5 light light ho visto prima che di meno soltanto che non ha le mqa ma dicono che il formato mqa sta morendo quindi ci sta per 356 un bel po' che comunque kz fa anche prodotti di gamba un po' più alta sì io ho provato un po' tutto in passato di kz questa kz ho comprato un annetto e mezzo fa 13 euro nero però mi sa che era la versione vecchia questa è la versione nuova gianpaolo fabio nico comunque proprio nulla non si sentono promozioni a mesi non quel solito pseudo cashback nikon ha un modo di fare promozione secondo me anzi siamo onesti nital nikon italia a modo di fare promozione sbagliato c'è anche il fatto che appunto è uscita la zf non sta in mano a nessuno su youtube non sta in mano a me non sta in mano a fabio porta non sta in mano a premierless cioè insomma siamo noi che facciamo divulgazione poi noi lo facciamo gratis vi racconta che questo aneddoto se qualcuno non è in itar viene a saperlo non me lo può freare di meno quando è uscita la z8 io lo sapevo che stava uscendo che alla fine i rumors li vediamo tutti io gli ho scritto dicendo ma mi fate avere comunicati almeno 24 ore prima firmo veramente tutti l'nd8 la non discrease argument quindi l'accordo di riservatezza però mi fate avere i comunicati e loro mi hanno detto ah no ma neanche noi sappiamo le caratteristiche casualmente meno di 24 ore dopo esce il loro video dei ragazzi di Nital in cui raccontano tutto quindi mi conoscono a 13 anni sono 13 anni che faccio informazioni in questo settore e loro dopo 13 anni raccontano anche le busce come i bambini no amore guarda non puoi mangiare le caramelle perché sono tutte rovinate quelle a questi livelli è un mondo molto triste cioè io mi diverto sono contento riesco a provare fotocamera in anteprima questa qui della Mint vado un attimo a tutto schermo perché merita è praticamente una biottica istantanea sul formato quadrato delle Istas questa me la mandano in anteprima i cinesi ti consigliano ti mandano in anteprima le aziende italiane per avere l'anteprima ti devi mettere in ginocchio vabbè fine polemica ragazzi Matteo B ha venuto partecipare ma non solo in Italia in quel periodo ci mancano due mesi per il 25 ottobre cioè non riesci a organizzarti per tornare ok capisco vi spiego anche questo la scelta del Master Rock Photographer è una scelta coraggiosa perché io volevo fare qualcosa nella mia città però volevo farla che fosse anche su YouTube quindi ho scelto questa formula parallela quindi l'inizio è su YouTube e per questo ho chiesto a partecipanti di mandarmi dei video perché ci starà un episodio intermedio il secondo che ci starà montati tutti i pezzi di video dei partecipanti in modo da farli conoscere e poi quando ci starà il terzo video che sarà un reportage della finale io spero che chi segue su YouTube il Master Rock Photographer anche tu Matteo magari se non puoi partecipare te lo godi cioè vedendo l'annuncio la semifinale e la finale il fatto di aver messo il nome Master nel nome Master Rock Photographer è che un po' vado a citare non mi nascondo dietro un dito perché il dito è piccolo e sono rosso un po' Masterchef quindi questi simile reality regate a un concorso spero che funzioni ci ho messo dentro vi ho raccontato prima per come ho costruito questo aggeggio con il legno con la pietra lavorandolo io vi dicendo tanta tanta passione per questo ho scelto anche il rock il mio amico di prima dicevo Sandro Cecchini Beconuro diceva ma Gianluca il tema è difficile secondo me è difficile che sono rosciuto a pane e rock ma comunque anche se è difficile per me invece è importante che sia quello è un tema a cui sono molto molto legato Gianluca Guarzoni questo kit luci godox cosa ne pensi? dai ultimi sei minuti di live diamo un'occhiata alle luci anche le luci ragazzi in fotografia è tutto è fondamentale potox non vedo nulla di offerta tu qua le dicevi le SL 100D che sono quelle da 100W non lo vedo questo kit per due però mi dispiace Gianluca niente di che Michele ma io ricordo di capazzetta l'adattatore Tepsi funzionano bene? sì di per sé l'adattatore Tepsi è quello sulla maggior parte di smartphone anche sul mio pixel perché non c'è più l'uscita cuffie quindi qualsiasi adattatore va benissimo ciao Gesualdo poi non so se sei ancora online dopo 8 minuti bell'uomo insomma bel vecchietto ormai begli uomini sono altri quelli su YouTube però insomma spero mi prendete così come una figura a terra ragazzi certo che quando sono stato male non so se avete visto su Instagram e ancora non sto bene quest'ultimo anno continuo a sentire sempre di più l'età problemi con la vista problemi con l'intestino che noia cioè Gianluca ci sono vari minimi storici sui microfoni bluietti ah giusto una cosa non ho cercato mi ha dato l'idea con i microfoni rode quanto mi rode e no io spero amare i nuovi pro ma anche i vecchi i nuovi wireless go 2 pro questi sono i vecchi poi versione single no 289 sono i prezzi proprio no l'altro dei microfoni e non solo droni qualt'altro dji niente per queste offerte prime proprio nulla 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 insta360 qui sto venuto in mente l'action camera nulla 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 ah beh eh sì però il modello quello vecchio non è l'X3 è l'X2 ragazzi vi consiglio l'X3 cioè questo qui era tanto carino con la finestrella tonda ah non state più vedendo non state più vedendo e ditemelo e partitemelo non sto perdendo le cose la versione con la finestrella tonda era tutta un'altra cosa rispetto al quest'altro quindi vi consiglio assolutamente la X3 quindi decisamente uno shit Michele Pian Piano che saluta Gesualdo Brando Giuffrida cosa ne pensi le Sennheiser Accentum che sono quelle nuove Sennheiser Accentum ma le hanno presentate che sono queste che sono disponibili le nuove Accentum dovrebbe essere una via di mezzo tra le due che ho segnalato prima però si trovavano già meno secondo me Balando se tu vai a vedere appunto il caneta che vi ricordo ragazzi tra poco chiudo qui sotto lo trovate io vi ho già segnalato praticamente queste due cuffie allora le Momentum 4 a 2,74 oppure le 456 a 79 quell'altra Accentum sarebbero una via di mezzo però secondo me è né carne né pesce quindi se vuoi sparmiare prendi queste se puoi spendere prendi quest'altra quindi c'hai un bivio proprio netto segnalo Honor Pad no quelli del tablet proprio no 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 ragazzi ultimi due minuti quindi sorso d'acqua vi ringrazio che è l'una si è l'una siete ancora lì in 68 a guardarmi e vi dico ovviamente se siete fotografi provateci a unirvi al must rock fotografi fotografer ma se siete fotografi date anche una letta al mio libro che trovate il link appunto tra tutte le offerte le vedete ancora qui anzi qua a fianco a me che in questi giorni quindi soltanto il 10 che siamo oggi e l'11 sarà a 12 euro poi il prezzo lo rimetto 15 che ogni tanto che mi portarmi a casa qualche orello non mi spiace saluto l'ultima persone che stanno smessaggiando Michele mi spiace ma sui tablet proprio non ti so come consigliare saluto il mitico Peter grande fotografo Peter ma tu non parteci al concorso vi ricordo questo il master rock fotografer è aperto a tutti se siete amatori o professionisti non importa l'unico requisito è ad essere maggiorenni poi il regolamento lo trovate facilmente se avete dubbi mi contattate su Teleram su Instagram su Facebook dove volete ringrazio ancora a Ike More Worryless saluto Matteo B e con Michele Pian Piano ragazzi ciao a tutti ovviamente questo video resta online e Calatera resta online un grazie enorme ogni volta in queste belle chiacchierate ci facciamo a orari improbabili e ci vediamo al prossimo video quello di sabato a sui gira dischi ciao a a a a a a Grazie a tutti.